ciao amici che dimenticanza colossale abissale incredibile dove è il drago ciao stream elements buonasera sound alerts ciao giuli giulisan ciao amica mia allora loki grandissimi stasera loki lo chiamo sharder amico mio ciao amici amiche buonasera a tutti allora amico sharder andiamo a vedere le mega livree assurde assurde appena ti è scaduto l'abbonamento amico mio l'importante è che vieni a giocare con me non fa nulla non fa nulla non fa nulla amico mio tra l'altro ho visto adesso che non so neanche se l'ho ringraziata la mitica giulia il mitico lord ha regalato un abbonamento a sharder grazie giuli grazie grazie lord collega aiutatemi aiuto 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 grazie davvero ragazzi siete troppo troppo mitici grazie del vostro supporto e grazie della vostra supposta ah no, non si dice così ah 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 mitico a Lord e mitica a Giulia grandi grandi ragazzi mega serata domani è l'esame orale ma che tipo di esame scusami in una scuola o un altro tipo ah 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 questa era brutta scusa, dai dai amico mio dai Loki ci proveremo, ci mettono tutti mi dovete dare carica allora cosa ne pensi se ti do carica facendo ecco facendoti vedere le creazioni di Sharder e una bella Sardegna ti diamo un po' di carica con la Sardegna ciao raga allora Instagram perché ho visto che Andrea vede Instagram condividiamo la life mi amico poi ti canto la canzone se vuoi Loki allora vediamo un attimo di cantarti una bella canzone di incitamento eeeh weeeh Kitsune ti chiamo Kit Kitsune ti chiamo Kit io chiamo tutti gli amici e le amiche con le prime lettere le prime tre o quattro allora amici miei amici miei la mia grandissima amica benvenuta benvenuta grandi ragazzi salutiamo a dovere la nostra Kit Kit è come il nome della della macchina quella che che nera che aveva che aveva l'autopilota tipo la Tesla tanti tanti anni fa ciao ciao Kit allora ragazzi mi raccomando la mia mica Kit bisogna andare poi dopo tutti quanti iscriversi al suo canale hai iniziato adesso è grandissima Kit oh grazie Giulia grandissima grandissima mitica Kit guarda che dobbiamo fare qualche live insieme come la macchina del telefilm brava ti ho subito seguito oh ragazzi grandissimi grandissimi bravi bravi ragazzi Kit è brava è brava è brava ci sentiamo su sul messenger ed è veramente una bravissima ragazza in più streama bene e ha cominciato adesso bisogna dargli un aiuto e assolutamente Kit dobbiamo fare una gara insieme una gara dobbiamo fare un a voglia oh così mi piace anche magari sai che cosa stavo pensando o a survive quello che ho preso io che ce l'ha anche tu hai detto oppure si potrebbe fare anche a minecraft visto che tu sei molto brava ci sono io c'è anche mio figlio che sa fare di tutto e di più esatto la chiamiamo Kit la nostra amica Kitsune perché Kitsune Kitsune è troppo difficile allora amica mia la mia mega chat allora abbiamo cominciato adesso tra un po' arriveranno anche gli altri amici devo basare un po' l'audio della televisione certe ciao amici amiche di Twitch benvenuti oh amore mio oh Bragali quanto mi manchi amore mio sono capaci di fare delle belle grafiche oh non sono capaci di fare delle grafiche e dai dai pian pianino pian pianino facciamo tutto Kit amore mio Carla segui il canale di Kit Kit Kitsune si chiama così Minecraft molto benedetto quando vuoi sono qui ok ok dai poi dopo organizziamo organizziamo perché Kit io sono molto specializzato in giuego di macchina però faccio di tutto faccio di tutto quindi va benissimo Kit bellissimo amore mio segui la mia amica Kit che mia moglie è Bragali TV segui anche la Bragali TV Kit che è la mia bella mogliattina che adesso è con mio figlio in Francia ma sabato c'è sabato c'è sabato viene sabato viene e faremo una bella live insieme oh che botta che botta Marco ascolta il mio lorzo facendo la live e viene tra mezz'oretta ok amico mio ok amico mio anche Megalord fa live ok grazie amore mio grazie amore mio mamma mia quando google Kimberly Kimberly mitica sempre Kim ah no Kit Kim ma scusa no la pubblicità perfetto mega pubblicità ragazzi la pubblicità è l'anima e la vita di noi streamer cosa che ok dopo le fai cose che creo ok uè Giovanni amico dai dai amico mio Giovanni come stai come stai grandissimo Joe allora Joe iscriviti al canale di Kit è una bravissima amica mia che ha iniziato a streamare ha bisogno di supporto e ha bisogno anche di supporto oh stream elements ciao stream elements grande Giovanni come mai non c'eri l'altra sera col mitico Morris amico mio Giovanni ti stavamo cercando Giovanni faremo un'altra sera Warzone insieme ok amico ma Chris che fine ha fatto Giovanni tra l'altro volevo scrivere se vuoi possiamo mi iscriviti con il tuo in una vanilla allora sapere andando a cena amore mio buona 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 cena io ho già mangiato hamburger hamburger palettine ciao amore mio ciao Carla ciao Bragali a dopo mi raccomando dopo collegati eh amore mio tanto fino alle 11 facciamo live anche qualcosina in più divertiti amore mio noi in Francia salutami il nostro bellissimo figlio Vittorio ciao amore ciao amore che cos'è quello che è la vanilla ciao amore mio buon appetito buon appetito come sa di in fransè buon appetit buon appetito è fransè buon appetito per un saluto che vado a fare domani no che ora guardai ah ok ok Giovanni dai dai mi raccomando amico mio entra dentro quando vuoi ok mio amico Chris che fine ha fatto Giovanni il mitico Morris c'è già locato vabbè dai se senti Chris diglielo di venire dentro salutarmi eh dai ciao Joe lumache da terra l'escargot te vu manger l'escargot ah 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 è un mondo dove possiamo giocare live tipo la lobby di gran turismo oh la madonna bellissimo eh dai Loki Loki dai organizziamo 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 una mega una mega lives basta che non mi fate arrabbiare il drago ragazzi eh non fatemi arrabbiare il drago perché sennò mi brucia i capelli ok ci sta allora amici e amiche nuove posso chiedere il tuo nome l'ha già chiesto e si chiama Kimberly l'ha chiesto Shard sei poco attenta amica mia allora la Giulie è la mia è la mia moderatrice mi hai fatto venire fame con quelle patatine ah 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 eh eh direi che è ora di andare a mangiare sono le nove amica mia quando mangi a mezzanotte Kimberly 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 marco il capo dei capi allora dopo la serata ragazzi la strutturiamo che giochiamo online con il mitico Sharder ma subito dopo ah 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 ma no ma mangia qualcosina non mangiare tanto non fare come me che esagero sempre poi c'ho il pancione mangia pochettino poco poco però non saltare la cena non fa bene Sharder il moderatore assolutamente si allora Sharderino il moderatore e la mia mitica Giulietta è moderatrice ci abbiamo i modder più fichi del dos pianetas allora ragazzi strutturiamo eh si 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 allora scusate se col mio panino e patatine ho fatto su un casino eh ah 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 eh scusate se ho fatto venire fame a tutti ma non le nove dovete mangiare alle otto io ho mangiato alle sette e mezza ragazzi dovete mangiare prima dopo mangio alle sette e mezza ho fame alle undici però vi sto trattenendo raga perché se no divento una botticella e visto che ultimamente sto anche saltando la palestricolas conviene che mi do un taglietto al mangiare quindi comprate carote 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 eh si fatti fatti Sharder fam venire un po' fame tutti qua anche a me che ho appena mangiato ah 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 allora mi sono anche dimenticato di mettere in economica quindi dovrò fare assolutamente il pieno di sbenzas prima del tempo aspetta che facciamo vedere la nostra amica chi sta facendo scordare siamo molto allora gioca da playstation e da non lo so fate bene fate bene allora la nostra chat è movimentata asnimadas ciao amici e amiche mi raccomando se vi piace il canale di marco dranos games date un bel follower 5 tali dai arriviamo 5,90 nel weekend dai se riusciamo ragazzi eccoli qui i miei social ragazzi su youtube e infatti com'è sta storia kit non ho mica capito io qua con i miei amici di twitch e danno sempre la coppa al marco dranos e io sono l'unico qui che sta facendo qualcosa sono l'unico che sta andando 300 all'ora pc e ps5 grande bravo sharder abbiamo fatto anche una squadra mega corse di marco drams sharder design bragali tv e che c'è dentro anche il mitico maestro loki de maestro nel drift il nostro amico loki che domani ha una mega verifica orale non ha specificato di che cosa quindi non voglio entrare in discorsi over no scherzo hai visto che belli allora ci sono un sacco di cosine carine e ci sono anche anche i miticoin è la moneta virtuale di marco drams in 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 twitch e l'ha creata mio figlio leonardo ha detto papà tu chiami tutti i mitico mitici creiamo i miticoin e sarà la moneta penso proprio del futuro spazzerà via anche i botcoin come cazzo si chiama ma tu sei un drago che leggi la certe mentre fa la corsa eh amica mia i miticoin bello l'euro ahahahah l'ha più vista le nuove cose che ho fatto su 27 adesso andiamo a vedere eh andiamo a vedere anche le cose tu devi capire eh chi chi marco drams in finale terza media mi chiederanno tutto caspita oh chi dai dai impegno amico mio dai è l'ultimo passo è l'ultimo passo Loki l'ultimo passo devi impegnarti e poi ti fai tre mesi di tranquillità tranquilli dai ti rilassi e poi parti a bomba con i superiori dai 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 lo faccio sul pc eh si eh si eh si hai poi risolto kit il delay che c'era che mi parlavi Willis ha ha ciao amico buonasera grazie Willis amico no sei risolto il il delay che mi dicevi che sentivi il ritardo grande Willis allora amici miei iscrivetevi al canale di kit anche tu amico Willis che ha iniziato adesso ha bisogno un po' di supporto e comunque è bravissima quindi penso che non ne avrà bisogno anzi io credo che tra un po' dovrà essere lei a darmi supporto e a passarmi un po' di followers che è bravissima ah si un po' aggiustato sai mi devo limitare un pochino le cosi con la pratica eh beh certo 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 Willis grandissimo oh Willis poi scarico scaricherò dirt2 rally così ci facciamo qualche live insieme Willis cosa ne dici oh ragazzi Willis andate a vedere anche le live di Willis l'altra sera si porta minecraft ce l'è anche tu Willis facciamo una mega serata minecraft la mitica kit dobbiamo fare una seratina una live insieme c'è anche Loki che ci sta perché conosce minecraft si fa una roba vanilla boh non ho capito che cos'è poi spiegheranno spiegheranno loro come si fa sta vanilla ma tutti davvero supporto scappo a mangiare sto morendo faccio volentieri una mega serata ok ok per me va bene io dirti sempre aperto perfetto dobbiamo vedere per forza horizon farming eh certo certo un po' troppi giochi allora ciao kit ciao grandissima se dopo torni ancora ci rivediamo stavi bene visto che ti chiamo con tante s ciao 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 kit buonasera a tutti ok ok buona pappa buona gnam gnam mitica ciao 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 mitica allora intanto noi ragazzi rimarremo senza benza perché io a parlare lì deve scherzare adesso non è mai senza benza panda stile panda style ah ha messo il panda che bello ok ok grandi ragazzi supportiamo sempre i nuovi streamer la gente brava che se lo merita quelli che non se lo meritano tipo con i grossi togliamogli il follower e anche l'abbonamento e lo fate a marco drowns games che ce n'ha di bisogno grazie mille giulia l'avevo visto ho visto 23 ore fa che avevi fatto l'abbonamento a sharder grazie amica mia grazie ringrazio tanto 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 lord non ho resistito a non vedere questa volta le tue libree oh raga mi sa che finisco la benza adesso andiamo a vederle voglio vederle anch'io le libree grande willis ragazzi willis ha fatto una mega live pazzesca su dirt lo devo scaricare devo cancellare tipo 6 o 7 giochi quindi non ancora e e e comunque fortnite l'ho tirato giù cioè può interessare è bravo è bravo è bravo è bravo sono 80 passagiga urca willis si ho il 5 tera ma è pieno vabbè dai dai lo tiro giù lo tiro giù adesso poi c'è anche Leonardo che vuole giocare con me a dbd quindi dovrò anche fare delle live alla sera ragazzi con il mitico Leonardo zan e boy a the bad date light su console va bene va bene e lo tiro giù lo tiro giù willis lo tiro giù così ci facciamo qualche bella live insieme adesso poi a fine mese arriva giù anche arriva giù anche il formula 1 2022 raga su pc 110 vedi che allora il sistema di ottimizzazione console funziona le maglie le maglie giù le ho fatte fare in Turkbekistan e arriveranno all'incirca nel 2024 perché le portano col cammello d'altronde le ho pagate poco e questo era il corriere e potevo scegliere eh eh ah 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 eh oh eh 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 sì oh poi stiamo organizzando per Wreckfest bella ci sto Wreckfest è certo che ve la regalo ragazzi ve la regalo nel 2024 vi ho detto stanno arrivando col cammello allora dopo faranno anche una sosta con l'asino eh perché costavano poco e il corriere era era compreso o l'asino o il cammello e avevo scelto scelto un po' l'asino un po' il cammello faremo 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 oppure vi do delle belle magliette frutto Marco ha il Wreckfest amico mio io l'ho comprato al day one Wreckfest Wreckfest è un gioco fighissimo se vai a vedere sul mio canale youtube ho fatto dei video passosissimi dove ci si diverte un botto a Wreckfest certo che ce l'ho amico e l'hanno fatto anche per PS5 tra l'altro l'aggiornamento gratuitos dovrei averlo installato se non lo installo tanto se lo tiro giù stanotte che mi ricordo fammi solo una cortesia loki me lo scrivi nel gruppo Marco scarica Wreckfest scrivi proprio così così mi ricordo stasera prima di andare a letto vedo il messaggio Marco scarica Wreckfest e dirt 2.0 ok ma anche Willis ce l'ha vai già ciao loki amico mio ciao 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 dai mi raccomando preparati per domani vai a letto presto pensa a noi e facci sapere qualcosa come va va bene ciao buon esame bocca al lupo e mi raccomando impegno impegno che l'esame di terzes medias è già un passaggio della tua vita importante importante ah ok che ne so io vado ah ok grande grande è come l'altra volta che non avevo capito che stavi scherzando e infatti vabbè che devo fare io a letto le 9 sarà perché all'esame vuole andare a letto presto a svegliarsi presto anche willis perfetto 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 dai allora si può fare già un bel breakfast eh sharder sharderino tu ce l'hai il breakfast l'avevano anche dato sul playstation plus eh tra l'altro se ce l'hai lo scarica anche sharder dai che ci facciamo una mega breakfast il bello di breakfast ragazzi è che si va addosso e si spacca tutto eh perché se poi anche lì non si può andare addosso eh 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 gran turismo lo capisco ah ok bravo bravo ma non l'avevi riscattato sbam eccolo qui willis allora willis ci facciamo un bel sbam breakfast breakfast eh si eh ci facciamo come minimo la gara quella di tagliaerba ragazzi la gara di tagliaerba ci scassiamo avete corso con le falciatrici si è bellissimo eh è bellissimo beh ormai è vecchiotto come gioco secondo me dovrebbero fare anche un seguito che vende di brutto eh si tanta roba allora io l'ho portato su su youtube quel gioco lì willis perché che male l'ho portato su youtube perché ho visto che poi effettivamente su twitch è un po' è un po' è un po' è un po' oh raga ora partiamo con i messaggi intimidatori adesso vi segnalo a twitch cambiamento del look si si stai benissima rossa e beh certo quello senza dubbio quelle marco io so driftare su un breakfast anche col volo eh la madosca dai ma tu stai a driftare su qualsiasi roba grande grande Loki drift anche in breakfast che praticamente le macchine sono ingestibili già di loro grande e anche qui intanto ridendo scherzando raghi abbiamo abbiamo già anche anche finito la sardegna sono dietro la casa di Andrea Andrea è lì a sinistra e mi sente sempre farmare vicino a casa sua il grandissimo Andrea stasera non l'ho ancora visto aveva detto che veniva a giocare eh che il mio collega si ribella a marco eh beh insomma insomma non è tanto bello eh che si si ribella contro il padrone ah 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 come la schiavitù degli anni 300 raga ah 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 le felpe sono in lavorazione ragazzi costano veramente una cosa fuori si padrone sono veramente pazzi 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 da legare credo che kit è andata a mangiare però non lo so può essere che è rimasta dentro il live si 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 può fare una bella live ho visto che ho fatto un paio di video credo il live di minecraft io avevo idea di fare un gioco volevo chiedere a voi ragazzi se come idea vi par sensata è un gioco che ha 14.000 iscritti ciao tutti intanto grazie ragazzi grazie per essere entrati con noi stasera eh i nuovi che sono entrati adesso finalmente che trovo qualcuno che gioca a varefest vabbè se me lo dicevi giocavamo anche tanto altro tempo prima e vedi che le cose si scottono un po' alla volta Loki man mano man mano pian pianino pian pianino io ho visto le live del mitico Willis e ho visto che giocava a parte Fortnite che è bravissimo ma che giocava a drift che è un bravo 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 l'altra sera e mi ha fatto venire un po' voglia di driftare anche se con le macchine da rally lui faceva la rally cross è carino è carino è un po' diverso da e col vrc 11 penso che è l'ultimo che ho comprato ho fatto anche dei tempi assurdi in Sardegna ma è veramente troppo cioè è figo eh l'ultimo però non lo so c'è un qualcosa e tra l'altro ho messo ho messo per Carla le righe qua che non ho capito perché no non voglio la cosa l'aria di frenata mica sono così scarso tra l'altro ieri sera ho fatto mi preparo per le gare sì 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 uè a bello brum brum paura non ha della curva aiaiaiai caramba ciao bello ciao luigi un mitico ragazzi salutiamo tutti il mitico luigi psicotico è un grandissimo grandissimo amico luigi bella luigi allora stasera ci corre brum brum dobbiamo fare tartarughe ninja dobbiamo fare tartarughe ninja bisogna fare una live fatta bene luigi riesci a farmi conoscere a miliardi e miliardi di followers così ci facciamo una mega live di bertentoschi a tartarughe ninja devo portare sulla xbox però ce l'è succhiata mio figlio dai ci sto ci sto di brutto sì quelli voglio big money money oh non posso fare pubblicità e neanche cantare per il copyright però posso canticchiare tu 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 boom 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 adesso voglio fare quelli a fare il è boom 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 forte ehe la beat come è che si chiama beatbox beatbox si chiama vero la beatbox però non sono malvagio sono bravo Non siete usciti tutti. Ho fatto una canzone di beatbox, questo si chiami così, che fanno batteria e tutto con la bocca. Marcolino, guarda la chat. Un nurburgrino, subito, subito Loki. Loki ha riscattato con 8000 miticoin il nurburgrino. Dobbiamo per forza farlo. Granda Louis Willis con le sue icone da gatto bellissime. Quello lì non ho mai capito quella blu che cos'è, ma è bella, è molto bella, è molto affascinante come tipo di iconcina. Da che facciamo l'ultima. Mintz che non sapeteci più. Uh che bella, ah sì quella lì la tipettina, sì quella lì la tipettina con il costumino verde. Anche quella è bella. C'era anche quell'altro che fa ridere, che metti sempre, che è fighissimo. Quello che fa... Ciao amici e amici di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Guarda Thoradin cosa ha fatto per me. Che cosa ha fatto Thoradin? E' qui Tori? Thor? Ma c'è Thor qui con noi? Che cosa ha fatto Thor per te? Mitico Thor? Giulia, guarda la chat del gruppo, The Messenger, guarda che ha messo. Ah! Grande, grande, grande Thor! Mi ha regalato l'abbonamento al suo canale. Ok, figata, figata, grande Thor. Ci sta, ci sta. Io non ti regalo l'abbonamento al mio canale, eh? Sapilo. Ecco Andrea! Mi hai sentito dalla finestra, Andrea? Mi hai sentito? Adesso guardiamo, Scharderino. Andrea, secondo me ragazzi, è arrivato adesso perché ha sentito... E' andato alla finestra del bagno e ha sentito che c'era la mia BMW. E non c'entra la galleria subito. Yes, baby! Sono uno zombie, raga. Oh, cacchio. Però di la verità che hai sentito Marco Drums con la sua McLaren BMW dietro casa tua, eh? Di la verità. Ah, Andrea, grandissimo, grandissimo. Allora, ragazzi, io volevo comprare la... La 500.000, eh? L'ho messo anche nel titolo che volevo comprare, là. Guardate un attimo. Ah, il mitico Andrea. Grazie, Loki, col bevi. Perché non ce la facevo più? Nessuno che fa il pettine? Oh, bravo, Loki. Per fortuna ci pensi. Puoi farne anche un po' meno pettine, eh? Perché se no, poi perdo i capelli. Andiamo a vedere le mega livree di Sharder. Allora, ragazzi, andiamo a vedere le mega livree di Sharderino Design. Il mio amico Marco, grandissimo. Allora, mega, mega livree. E poi facciamo un nurburgrino, eh? Oh, non sciuppo più i miticoin. Devi fare un po' di... Brava, brava, Giulie. Fai un po' di... Come si dice quando si risparmia? Di risparmio. Allora, scusa Sharder, ma devo andare a vedere sto biglietto perché sono troppo curioso di vincere. Pochi soldi. Oh! No, ti prego, un milione. No, pochi soldi. Ma non ci credo. C'era un milione, raga. Non ti rischietto più niente qua. Oh, che cattivi, ragazzi. Ah, che cattivi. Ah, che cattivi. Allora, andiamo a vedere il mega Sharderino. Com'è? Fa lo stesso. Oh, che cattivi. Che cattivelli che siete stasera. Venerdì, eh? Venerdì. Allora, andiamo un attimo a vedere che cosa... Ma scusa. Ma... Ma dai, ma è bellissima. Willis. Molto deciso, molto deciso. Cioè, sarà una... Ah, una icona fighissima. Tu non regalare niente e io non ti... Ah, cattiva. Ah, cattiva, Giulie. Ah, cattiva, Giulie. Allora. Vediamola, ragazzi. Qua fa paura, eh. Qui fa... Porca loca. Squadra corse. McLaren. Eh, anch'io. Però sei cattiva stasera, eh. Sei cattiva. Fai la brava. Fai la bravina. Bella. Ma questa Sharder è di squadra corse? O è la tua, perché... Squadra corse... È solo squadra corse questa. Bellissima. È bellissima. Team Italia. Scuderia corse. Ok. Ah, questa è la tua. Ah, ok, ok, ok. Quindi potresti far... C'è la... Oh! C'è la mia! Sempre fortissimo il Sharder. Mamma mia, raga. Aspetta. Ha detto che c'è la mia. Questa che cos'è che è? Oh! Sharder. Marco Drums. Ah, sei un grande! Ah. Mi... Co... Allora. Bellissima, raga. Guardate che colori. Bellissima. Dov'è la mia? Oh! Wow! Bella! Ragazzi, le nuove livree... Guardate, guardate le nuove livree di Sharder Design. Due giorni c'è messo a nostro amico a farle. Che figata! Questa è per la McLaren. Questa è di Sharder, eh? È la tua questa, Sharderino? Sì, sì, questa è la tua. Bellissima! Bellissima! Mio Dio, che belle! Ogni volta sono sempre più belle! Se vedi le mie, ti fa paura. C'era scritto Marco Drums, un casco bianco, Marco Drums tutto storto. Ah, 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 Marco Drums Games, tutto storto, Andrea. Ah, 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 madonna! Che bello! Che bella, che bella! Che bella! Bella, 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 bella! Sharder Design, McLaren, Petronas. Metriatec. Figa! Scuderia Italia. They're a racing team. Ci sta, ci sta. Ci sta. Questa è la mia! Oh! Sì! Spettacolare! Vediamo, raga, che la voglio mettere subito. Loki ha commentato mio Dio. Ah, 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 ah. Oh, cacchio! Cacchio! Questa è figa forte! Questa è figa forte! Bravo, che hai messo Marco Drums 17 dietro! Sei un grande, Sharder! Lui si ricorda delle mie esigenze per Twitch. Live on Twitch. Team Marco Drums Games. Che bella, ragazzi. Che bella! Bellissima rossa! Grazie, Sharder, sei un vero amico. Grazie, amico mio. Allora, Sharderino, ma che macchina è? Un fonte per il tuo logo più originale. Per rendersi più riconoscibile. Eh, bisogna farlo sul coso. Bisogna farlo su... Su... Su Illustrator, Andrea. È un casino. Allora, qual è la McLaren? Sharder? Che McLaren è? Che forse... Speriamo che ce l'ho. Che McLaren è? McLaren? Ah, ma devo cercare davvero, sta tutte queste macchine così. Non mi passa più. Costruttore. Non mi passa più neanche come costruttore. Facciamo prima... Mi sa che ce l'hai. Perché l'avevo vista? Aspetta, fammi vedere il primo qual è, amico mio. Così mi dici qual è e vado a cercarla. Allora, McLaren è Europa. Perché è... Sei bravissimo, bravissimo, Sharder, davvero. È questa? La 650S GT3? No. Forse è questa. Ah, ok. 3.600.000, ce l'ho. La P1. Fammi vedere, sì che ce l'ho. Grande Sharder. Andiamo subito a girare al Nurburgring con questa qui. Subito. Subito. Allora, adesso devo cercare, raga. E se facciamo per costrutt... Cazzarola, sbaglio. Abbiamo il drifter, il livraista. Poi cosa manca? Eh, manca il boss. Eh, io sono il boss. No. Ho sbagliato ancora, raga. Oh, Inghilterra. Eh, e poi manca il boss. Allora, Inghilterra. Eh, c'è Andrea. Manca il boss. The boss. Germania. Dov'è l'Inghilterra? Dov'è l'Inghilterra? Voglio subito provare la livrea. Perché? Perché passa subito? Ma non c'è l'Inghilterra qua. Che cavolo è questa qua? Corea? Ah no, non vai. Oh, lì. È lì che sta arrabbiata. È molto arrabbiata. Per terra. Dai. Minimamente come fare la tua, grande. Cacchio. Sai che bisognerebbe fare una livrea per Olli? Magari sono una macchina tipo questa qui. È Sharder? Questa Honda S800 del 66 con scritto Olli e la foto del cagnolino? Sarebbe figa, eh? Sarebbe veramente figa fare una... Nurburgerino matto. Ah, sì che bisogna fare un Nurburgerino, amico mio. Prima devo fargli un Nurburgering che ha riscattato l'ora degli annunci. Ah, allora, annuncio importantissimo, ragazzi. Dopo facciamo il Nurburgering. Grande, grande annuncio. Annuncio incredibile, incredibile. Oh, se vogliamo proprio metterla, un annuncio importante. Farò DVD insieme a Grande Zane Boy, eh? Quindi, più avanti, ci sarà Day by Daylight insieme. Aspetta, mo te metto l'Hamburgerino pure io. È un altro, però vabbè, ci sta anche quello, mitica. Ci sta anche quello. Dov'è la MP1? Perché non la vedo? Perché non la vedo? A parte che è questa. Eccola qua, eccola qua, eccola qua. Grande, eh, infatti l'ho vista anch'io quella gialla, la Shard. Non la vedevo, però, sinceramente. Allora, andiamo subito a mettere la Livrea, ragazzi. Perché è qualcosa di spettacolare. Mettiamo quella di Marco Drums. Poi userò anche quella di Shard, eh. Io quando sento, mi viene da mangiare. Eh, lo so. Applica Styles. Madonna, fai le cose anche senza, senza spendere soldi. Ragazzi, ma guardate che bella. Arrivi? Dai, dai, dai. Fammi fare l'Hamburgerino per il mitico. E ho finito l'agua. Ok, ti ringrazio. Lo stamane in espresso ci ho lavorato. Davvero? Ah. Che figo. Allora, Loki, andiamo a fare il Nurburgrino. Possiamo fare insieme il Nurburgrino. Ah, dai, facciamolo insieme, dai. Dai. Ci sto. Allora, mentre carichi la partita, fai il Nurburgrino. Possiamo fare anche due giri, eh. Dino il Nurburgrino, se vuoi. Intanto faccio un attimino l'esperienza sul circuito con l'amico Andrea. Quelle che non abbiamo ancora fatto, però, eh. E appena fai il, il, tutto l'amberodanno mi chiami, eh. Che cosa è finito? Che cosa è finito? Sto rimanendo, sveglio. No. Grande, amico mio. Dai, 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 dai. Nurburgrino. Tu ti sei svegliato le tre di notte, amico mio, oggi, eh. Caspita. Come minimo ti faccio un Nurburgrino, amico. Visto che ti rompo le scatole tutti i giorni dietro casa. Ah, 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 ah. Questa, mi ricordo, che era una, una... Cacchio, l'ho fatta un sacco di volte con quella macchina. Chi vuole un hamburgerino? Beh, vabbè, è un gioco di macchine. Della Mercedes verde. Sai cosa devo fare, Giulia? Appena mi si sbloccano le nuove foto, mettiamo quella dell'hamburger, ok? Così potete scegliere o l'hamburgerino o l'hamburgerino, come dici tu, ok? Dai, le mettiamo. Le lo dico a Zorny Boy. Eh, quello sarebbe divertente. E' un'altra che mi farà morire, Andrea. E' un'altra che mi farà morire, questa. Ma hai già fatto morire. Ma questa è una BMW? Ah no, con la Mercedes. Eh, sì. Quindi ci vede fame, l'ho be' fatta, esatto. Allora, qua ho sbagliato. E quindi vado dritto, perché è inutile, è inutile proprio andare avanti. Mio Dio, ragazzi, quanto fa caldo. Io ho puntati due ventilatori, raga. Qui ho sbagliato. Cacchio. Ma sai che con la Mercedes qui teneva di più? Vai, il caldo che è meglio. Sì, sì, sì. Oh, non me lo ricordo mai, eh. Non me lo ricordo mai che subito dopo c'è quella. Ah, incredibile. In quarta? Eh, me lo devo ricordare però, amico mio. Ah, ok, ok, l'avevo tolti prima. Pomodoro, lattuga, sottiletta, cipolla, ketchup, maionese. Eh, Willis, anche tu ci metti. 400 grammi di carne, stica. Stica. Allora, aspetta, eh. Aria di frenata. C'è 400 grammi di carne? Stica. Ah, madonna. Eh, sì. Ci sta, eh. 400 grammi, sono due belli hamburgerozzi, eh. Eh, gnam. Eh, direi proprio di sì. Arrivo, arrivo, amico. Fammi fare un attimino il nurburgerino per... Porca... Ah. Fammi fare un attimino, Marco, scusami. Fammi fare un po' il nurburgerino. Dai che facciamo almeno un orino per l'amico Andrea che sta su, grazie. Ah, sta su dal letto che deve andare a nanna, si è svegliato presto. Eh, i 5 milioni, esatto. Cacchia, rola. Mi servirebbero proprio. Oh, grazie, grazie, grazie. Ah, qui non devo frenare. Eh, impossibile. No, dai, ma è ridicolo. Sì, va bene, ma bisogna frenare lì. Dai. Dai, gioco. Gioco. Qui la faccio a piena. Qui scalo la marcia. Stronza di macchina che si è imbarconata. In terza? In terza? In terza? Non, non, non fuori alla fine. Baracca. Vabbè, ho fatto il 52.4 che mi sono ribaltato la mine però, ragazzi. Ma si può? Mi sono ribaltato, mi sono arrivato. Se era oro, ragazzi, era un gollonzo, era. Qualcosa di veramente epico da mettere su TikTok. È una bella botta, amico mio, eh. Allora, l'ultima posso scalare in seconda. Ah, è vero? Eh, sì, se era oro, quella lì che mi arrivavo ribaltato era la TikTok, eh. Perché io me la ricordo ancora, Andrea, con la Mercedes. Sai che c'era la... La patente, il pezzo qui, con la Mercedes. Con la verde. Qui ho fatto una cavolata, eh. 50. Beh, è ancora alto, dai, è ancora alto. Però, 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 però. I capelli, non ne vogliono sapere di mettersi bene. un secondino ciao amici e amiche di Twitch benvenuti ragazzi e ragazze nooo davvero? ah la BMW M6 GT3 ti devo dire che l'ho usata anche io online non è niente male sta macchina ti sei affezionato? dopo tutto il tempo è passato qui si fammi finire cinquanta e tre dai abbiamo rosicato ancora un pelino rosichino rosichino alla volta devo riuscire a capire qual è quella che faccio lenta grazie a tutti nooo non riesco a capire Andrea e ragazzi quale faccio malissimus prime vediamo un attimo dai vediamo un attimo di eh si anch'io pensavo ti dico la verità questa lo dai questa buttiamola via perché questa lo cannata caspita caspita Andrea c'è cacchio qual è qual è qual è allora qui ti tendo a scalare freno un pelino se non mi butta fuori vado un pelino e via gas 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 qui posso andare più veloce non me la ricordo mai questa questa cacchio prova a non frenare a cambiare basta aspetta ma devo capire qual è però ah dici la prima ah ok ah ok senza frenare senza frenare mi porta fuori proviamo riproviamo riproviamo grande lochi questa se non freno vado fuori quelle dopo dici allora questa se ti stupirai fidati ok 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 grande grande lochi grazie grazie di tutto grazie a tutti se non tocco il freno mi butta davvero fuori cacchio che schifo aspetta dai modalità corsa vado vado per inerzia mutismo boh boh botta ah 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 eh lo so Andrea lo so che è un casino eh anche per me è un casino capire che tu vedi dove sbaglio e non riesci a dirmelo e non riesco a capirlo è un casino è un casino vediamo dai vediamo se riusciamo vedi qua se do via prima se non diminuisco sto rottame a presto e non riesco a capirlo a presto e non riesco a capirlo a presto a presto a presto Grazie a tutti. No, no, no. No, no. Ciao ragazzi, ciao amici e amiche. Bentornati su Gran Turismo. Prove sul circuito. Adesso poi andiamo a correre con il mitico shard design a Nurburgrino. Arrivo Sharder Seconda, ok, ho messo in mente Ma perchè non gira? Perchè non giri? Non giri? Cattiva! Cattiva BMW! Mi sta a far sudare, raga Ecco, eccola la che mi dimentico Che subito dopo quella lì c'è una curva lenta E non me lo ricordo mai Amico mio Faccio ancora due o tre volte poi andiamo subito Che ore sono? Le dieci Faccia parati Adici Non E Non Allora Quella Sono In cacchio no amici non dai no no 48 millesimi perché non poteva essere già oro grande grande andrea vediamo se riusciamo a farla adesso perché ecco già cannata già cannata andrea mio dio 48 millesimi dai 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 che ce la facciamo le potenzialità marco drams games c'è l'ia no 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 amici era era per me nel mio cervello era già oro no julie julie san cacchio cacchio ma no ma no ma che cos'è che faccio piano ci deve essere una curva che la faccio un pelo raga un pelo relax please shut down eh si sta arrabbiando si il drago sta arrabbiando si amica mia il drago ok bello lord cacchio cacchio no 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 ciao lord ciao mio mio cacchio cicciotto del mio amore si 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 cacchio 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 ah cacchio 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 non prendere i cordi si andrea vitico lord mi sta dando una mano per 48 millesimi si andrea vitico e vabbè e vabbè l'ultima dai l'ultima raga poi andiamo a vedere le librerie del grande loki perché sennò lui va a letto e non le vediamo cacchio quanto mi spiace grazie ehi vai a cagare sta cacchio di bmw sto rottane poi il cervello è una cosa bruttissima raga perché uno dice basta perché c'è Sharder da mezz'ora che mi sta aspettando il lobby però è diventata tipo una battaglia contro Marco Drano's Games scusa Sharder arrivo arrivo e non mi ricordo mai di mettere in terza e chiaramente guarda come scivola porca l'ultima eh l'ultima giuro dai marchito ce la puoi fare scontiamo tutti su di te sei tutti noi grazie grazie ragazzi allora qua se non freno va fuori se no ci riesce solo una gara ci riesce solo una gara eh lo so lo so Sharderino arrivo 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 eh l'ho fatto per Andrea per Andrea il mitico Andrea che ci divertiamo un botto noi due fareste cose così riesce a darmi una mano e poi per la soddisfazione personale mia che una live oh tu godi un burgerino esatto esatto dobbiamo fare una live solo quello ah 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 eh ci starebbe però raga una live solo due burgerino vai vediamo se riusciamo a farla ah 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 eeeh vedi però sto alto dai l'ultima 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 giuro eh perché sto capendo raga man mano che si corre si capisce la pista no e si cerca il punto Giulia fai la brava vabbè niente dai 49 6 79 49 6 79 l'ultima raga dai scusami Loki l'ultima l'ultima dai 49 6 79 perché cosa deve fare Loki raga non riesco a leggere deve andare a letto adesso eh vabbè dai cosa deve fare Loki deve andare a letto adesso che ti ho detto scusa l'ultima dai raga 49 6 79 6 48 gira le scatole eh scusate no no ma io stanotte sto qui eh questa devo farla poi dopo quando entra Andrea lì dico eh Andrea vado vado finito questa esco dai va com'è uccita basta 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 dai veramente tosta veramente tosta sono ottavo eh sono ottavo Andrea bella lì cacchio come ha fatto il primo a fare 49 100 ah si 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 esco esco raga andiamo a vedere Loki e andiamo subito da Shard allora l'ho vista adesso la risposta ah 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 allora 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 andiamo a vedere la vetrina petti ne bevi non c'è neanche più niente da bere raga allora vediamo un attimo Loki che eccole qua allora comenta mitico questa volta mi lo dì già andiamo a vedere dai ragazzi tolgo un attimo il video che vado a prendere da bere beri è Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 S. Sì. S. Sì. S. 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 S.